Pietro Gandolfi raddoppia, lo Stephen King piacentino porta in libreria due romanzi. Clayton Creed è un thriller psicologico, mentre la ragazza di Greenville è un vero e proprio horror. Clayton Creed è stato definito anche dalla casa di Triccio un thriller psicologico, nel senso che non abbiamo elementi sovranaturali, è una storia molto intima, molto chiusa volendo vedere. Ci sono pochi elementi approfonditi bene, per quanto io intendessi fare. Invece la ragazza di Greenville è la reedizione del mio romanzo d'esordio. In questo caso invece è un horror classico, molto classico, sempre psicologico, sempre come piace a me molto carnale, però è un horror. Tu sei piacentino, quindi sei comunque cresciuto qui, però ambienti tutti i tuoi romanzi, tutte le tue storie negli Stati Uniti, come mai? Perché secondo me bisogna essere onesti prima di tutto verso la propria formazione. La fiction americana, la letteratura, il cinema, il fumetto mi ha influenzato. Ambientare il tutto qui nella nostra zona sarebbe limitativo e non volendo vedere neanche onesto verso le mie origini. Pensarci bene, ma Piacenza potrebbe essere una cittadina horror o dove ambientare un horror? Sì, certamente. Se si va sul gotico, sul gotico padano. Le ambientazioni ci sono anche dalle nostre parti. Bisogna vedere che tipo di orrore si vuole creare. Se è quello più suggerito, più gotico, più d'atmosfera, comunque molto radicato nella nostra zona, sì, si può fare. Magari un giorno raccoglierò tutti i racconti scritti per l'occasione in un'antologia unica, sarebbe bello.